City Rapport Ed eccoci abbiamo finito di percorrere il perimetrale abbiamo deciso che questo è uno degli ingressi che ci piace l'abbiamo tirato la monetina, a sorte sono talmente tanti entriamo, non c'è bisogno di fare tanta fatica, guardate stiamo entrando, via De Marchi, Tecnocity, Bicocca, Municipio 9 uno spreco incredibile, siamo nel 2022 fine novembre mettiamo i guantini e vi facciamo vedere 10 milioni e 400 mila euro di denaro anche pubblico visto che c'era partecipata per questa situazione di distributore di idrogeno anche il Ministero, chiaramente il Comune di Milano e la Regione Lombardia ci ricordiamo le famose inaugurazioni fatte da Formigoni e Albertini a questo posto vediamo come oggi andiamo bene, questa è l'area dove doveva sorgere il parcheggio e il distributore vero e proprio dell'idrogeno come possiamo vedere diciamo che una discarica è il luogo giusto per chiamare questo posto vi ricordo che siamo a pochi passi dall'Università Bicocca siamo nel lato di Via De Marchi, guardate le immagini di Paolo Rusconi la cosa che mi chiedo sempre è come mai in queste proprietà abbandonate, usate per discarica c'è sempre un water c'è un cesso ogni volta c'è un cesso l'aria è molto vasta come potete vedere ci sono anche i resti di fuochi vari avvenuti durante il tempo un sacco di bibite che dimostrano insomma l'utilizzo del posto anche se meno frequentato del solito ma come potete vedere c'è ancora chi bivacca e dorme qua dentro, guardate molto probabilmente può essere anche un rider, guardate Glovo vieni Paolo andiamo a vedere la casuccia di questa persona vieni dentro, guardate la sedia, le bottiglie 2022, la notte siamo a 2-3 gradi guardate che roba, materassino acqua, perché ha piovuto quello è il cestino che utilizzano anche per gli escrementi e quindi in questo caso possiamo dire che il water che vediamo qui è stato messo nel posto sbagliato andava più in là, guardate la roba da mangiare guardate i fagioli ma proseguiamo grazie a Paolo Rusconi per le sue immagini questo è tutto il beveraggio alimentari come potete vedere che ci sono ancora bombolette del gas un famoso carrello della spesa quello che troviamo sempre in ogni occasione in questo caso corredato da un piumone perché molto probabilmente non hanno la possibilità di poterlo lavare in altro modo quindi lo buttano qua sopra quando puzza troppo stiamo proseguendo ragazzi questa esplorazione ci chiediamo come è possibile a novembre 2022 che sia ancora così, dato che la struttura è vuota da innumerevole tempo come avete visto dalle immagini all'inizio oltre questa mini recinzione che da più parti è aperta si trova l'università di Milano Bicocca guardate qua le bottiglie di urina i piatti ma proseguiamo stiamo andando a vedere un altro lato di questo posto incredibile in mezzo all'università Bicocca guardate quante confezioni di cibo in polistirolo che ci sono qua dentro è disseminato di queste zuppe di legumi guardate quante ce n'è tutte queste confezioni nere che noi pensavamo essere trappole per topi no sono zuppe di legumi vediamo confezioni di pasta non so se poi Paolo sei riuscito a far vedere ai nostri amici che ci seguono magliette appese sugli alberi ad asciugare cuscini e piumoni segno che forse una volta l'accampamento era più grande nota di colore casino della Yolanda prelege Merlin e altri materiali tipo cuscini buttati tutti qua dentro altre confezioni di cibo quindi molto probabilmente cibo che penso venga dato ai senza tetto ai poveri perché abbiamo i guanti a posto sì con le piogge di questi giorni questi sono i sembrano quelli dell'esse lunga polpa di pomodoro olio panettone olio panettone e beh giustamente è natale un mazzo di chiavi con un telecomando non sappiamo di chi sia sicuramente avrà già cambiato le serrature una sella di biciclette e grucce grucce per vestiti è sempre interessantissimo amici venire a vedere questi posti perché quello che molte volte i nostri amici politici non vedono insomma noi lo vediamo un casco da un casco da moto che però potrebbe legarsi paolo con la situazione precedente quella di globo che abbiamo visto le cassette di globo trasporta cibi pensate dove tengono queste cassette ma il servizio l'avevamo già fatto sulla questione dei tanti disperati che fanno i rider scarpe sicuramente è molto desolante il fatto di pensare che è una città come Milano che ospiterà le olimpiadi che è appena inaugurato la nuova rete della metropolitana sul fattore della mobilità sostenibile cioè quella idrogeno guardate che cosa è venuta bella porcheria anche qui abbiamo dei piumoni delle coperte sicuramente i resti di altri accampamenti vecchi che sono magari stati fatti anche sgomberare negli scorsi anni vi ricordo che qui è vuoto se da che anno paolo? dal 2014 2017 quegli anni lì comunque superiamo abbondantemente gli otto anni la teoria di rudolfo giuliani del vetro rotto anche qui pare funzionare bene peccato che caro paolo cari amici che ci sentite qui dal 2017 non si muove foglie addirittura lavatrice lavatrici gomme guardate che schifo quella è un'altra entrata ce n'è una lì vedete che c'è anche la bombola del gas è una bombola verde un'altra bombola verde adesso mi avvicino un attimo così e questa vi faccio vedere come si fa a entrare e uscire rapidamente da qua se zoom mi vedrai che c'è il cavalletto della polizia locale che serve a niente comunque ce l'abbiamo e queste sono le bombole ne abbiamo una qui una là in mezzo alle tante gomme bombola gas classe 2 questa fortunatamente no ce n'è un po confezioni di olio motore antigelo che è inquinante e il verde ah no questo è verde Paolo è verde questo e l'albero anche se così è verde si conteggia nel verde a fianco troviamo un'altra area questa ancora chiusa dopo varie vicissitudine però vedete anche qui le porcherie non mancano qua dentro andrebbe insomma tutta bonificata pulita e data un indirizzo a tutta questa struttura perché così è veramente incivile e se vieni qui dalla mia parte guarda come si vede bene l'entrata qua fate conto che qui passeggiano gli studenti che vanno all'università Bicocca le persone che vanno alla discoteca Sio che è qua vicino che è uno dei locali più noti e più in fondo c'è il centro commerciale siamo nel municipio 9 di Milano proseguiamo questo doveva essere sicuramente l'angolo del famoso posteggiatore sapete che in ogni situazione del genere c'è sempre un posteggiatore guardate c'è anche il mais perché comunque il prosciutto questa è la seggiola del posteggiatore e poi Paolo il posteggiatore la notte è stanco e ci mettiamo anche un bel materasso questo non lo provo però ragazzi eh questo non lo provo come vedete qui è stata fatta una sistemazione a umma a umma con le fascette perché entravano anche dall'altra parte dove vedete tutta questa immondizia questo televisore si vede Paolo? noi oggi magari non andiamo da quella parte perché il nostro senso era farvi vedere più che altro questo ma per andare basta fare così eh bene abbiamo deciso di entrare perché giustamente Paolo diceva come si tira e pro dobbiamo sempre farvi vedere tutto tutto ok questa è l'altra parte dove si accede dalla prima aria sempre via di Stefano guardate la porcheria che c'è anche qui beh che dire se questa è la fine delle proprietà pubbliche e delle energie rinnovabili devo dire che siamo messi bene guarda un'altra bottiglia di urina qua occhio a non schiacciarla lattine di birra neon non li tocchiamo tutti perché sono schifosissime anche se ci abbiamo i guanti ma non siamo qui per fare la raccolta differenziata vi stiamo facendo vedere un attimino che cosa trovate a pochi passi dalle prestigiose case di Bicocca dell'università via di Stefano, via De Marchi altre bombole del gas di cui io mi meraviglio sempre il fattore che se viene fatto qualche sgombero o qualche situazione come mai non vengono portate via visto che sono rifiuti abbastanza particolari bene Paolo seguimi facciamo un po' di perimetrale qui dai visto che siamo voluti entrare anche qua si facciamo anche quella parte di là facciamo un minimo di perimetrale nel frattempo attraverso gli alberi vedete la struttura che doveva produrre l'idrogeno ecco in quel sacchetto lì cosa ci sarà? boh lasciamolo lì chiuso clemei scarpe altri attrezzi un marsupio una borsa guanti un bel fungo speriamo che nessuno lo mangi perché visto quello che c'è intorno non so quanto è sano e qui ritorniamo sull'angolo della via De Marchi sacchiappelo e una volta c'era parecchia gente adesso ce n'è un pochino meno perché fa freddissimo si sono un po' trasferiti salvo i rider che ancora sono sotto la tenda io non voglio sapere che cos'è quella roba volante lì un Vespone un bombo ok scarpe tra l'altro ci sono anche scarpe da donna che ho notato guarda tutta roba che sicuramente dovrebbe stare dentro un distributore di idrogeno perché noi siamo per il green mannaggia alla gestione della cosa pubblica come viene fatta male è rimasto questo finto cartello qui che dice che c'è il primo distributore a Milano di idrogeno anche lui porta i segni del degrado eh non c'è niente da dire andiamo avanti cari amici Tullio Trapasso novembre 2022 con Paolo Rusconi e City Report guardate l'immensità di quest'area vista da diverse prospettive cioè è possibile che in una città come Milano non ci sia qualcosa a cui destinare quest'area in maniera legale e civile costruiranno altre case e questa è la fine dell'ecologia a Milano cemento su cemento ecco come stiamo continuando a vedere anche gli amici di zona me l'avevano segnalato abbiamo un bel numero di bombole in giro qui io ne ho contate di queste bombole del gas almeno cinque beh per essere un'area che dovrebbe essere green che da 5-6 anni che è abbandonata totalmente devo dire che è uno spettacolo soprattutto anche i deodoranti qui guarda Red Bull Trolli e tanta spazzatura ancora in mezzo alle case del nuovo quartiere Tecno City vicino all'Università Bicocca e soprattutto uno smacco la spesa di oltre 10 milioni di euro per questa struttura che è stata fallimentare e come sempre nessuno dei politici si prende la responsabilità di dire abbiamo sbagliato non rifondiamo di tasca nostra che anche quello sarebbe una grande cosa addirittura abbiamo anche la rete tu pensi Paolo che AMSA in questi 6 anni non poteva essere autorizzata a ritirare queste cose è normale lasciarle così? perché? che senso ha? per far vedere che c'è degrado? il degrado c'è nonostante tutto ma così lo si massimizza va bene amici andiamo verso l'uscita e facciamo le nostre conclusioni cari amici un'altra situazione interessante in questo degrado abbiamo contato qualche decina di tolle di vernice alcune anche piene che anche queste sarebbe interessante sapere chi è che ce le ha buttate qua dentro perché vuol dire che c'è qualche azienda che utilizza questo spazio come discarica sento spesso parlare delle famose telecamere mi volete dire che quest'area costata oltre 10 milioni e 400 mila euro non ha una telecamera che sorveglia quella che doveva essere un'area di erogazione idrogeno che sappiamo benissimo che l'idrogeno è abbastanza esplosivo qua troviamo anche un portafoglio non c'è dentro niente per cui ve lo facciamo solo vedere se ci fosse stato qualcosa vi avremmo aggiornati rimettiamoci i guantini perché la sicurezza per noi è una cosa importante e ci avviamo verso la prima la prima se pare tra un'area e l'altra sempre insieme al nostro Paolo Rusconi regista d'assalto ed eccoci in uscita ah il materasso serve perché in caso di caduta ops si attutisce il colpo guardate che bello fascette messe così 4-5 ingressi lungo tutto lungo tutto il perimetro fra l'altro queste robe qui cosa mi rappresentano guardate queste si levano a mano guardate non è un lucchetto non è una catena vabbè che bello posso fare l'idrogeno Milano Green avrei preferito rimanere in cassa 10 milioni e 4 però visto le varie situazioni che stanno occorrendo vabbè andiamo andiamo verso l'uscita ne facciamo un'altra amici facciamo scegliere al nostro Cameron quale fare vuoi fare vuoi fare quella avanti va bene qui è come in discoteca entri e esci fai quel cacchio che vuoi se no puoi fare anche quella dritta che è comodissima guarda ah quella volevi fare ma non è tanto si tira è troppo facile quella quella la fanno gli altri quella la fanno gli altri quando vengono qua con no tra l'altro mi verrebbe adesso sapete che io sono ironico scherzo a volte no forno a microonde forno a microonde sono ironico ma cercavano un'aria dove fare le nuove discariche visto che è stata venduta non so se lo sapete che verranno fatte delle case al posto della discarica in via Carlo Troia dove siamo andati l'ultima volta e questa quindi è una discarica facoltativa perché da quello che vediamo qua dentro va bene questo è un carrellino carrellino vado esci prima tu in mezzo a tutti questi graffiti mi levo i guantini siamo usciti sani anche oggi per quelli che poi ce lo chiedono come è andata insieme al nostro Paolo Rusconi e che dirvi scriveteci qualcosa mandateci i vostri commenti giratelo sulle vostre pagine e fate sapere dello scempio qua della struttura idrogeno costata 10 milioni e 400 mila euro di soldi pubblici comune regione ministero inutilizzata abbandonata è diventata una torre del degrado nel nuovo quartiere City Bicocca un saluto a tutti da City Report insieme a Paolo Rusconi alla prossima andiamo avanti City Report City Report City Report City Report Grazie a tutti.